Importante vittoria del Gladiator contro il Fasano, siamo qui con il difensore Dembel Sall chiamato da tutti Papi. Oggi era importante vincere questa gara contro una compagine che era il primo posto in classifica fino ad oggi, è una bellissima prestazione di squadra e si portano a casa tre punti importantissimi alla classifica. Sì, sono tre punti molto importanti e alla fine oggi sapevamo che era una partita molto difficile, tutte le due squadre hanno giocato bene, alla fine siamo usciti vincitori, siamo contenti, però noi non ci focalizziamo sulla classifica, pensiamo a noi stessi, a giocare bene e cercare di far felice ai nostri tifosi e alla nostra società. Le ultime prestazioni sono caratterizzate da questo approccio molto forte e che comunque ha permesso di sbloccare diverse partite, anche quella della settimana scorsa a Gravina nei primi minuti, oggi l'1-0 che è arrivato al decimo, quindi questo approccio è uno dei segni caratterizzanti del Gladiator. Sì, è molto importante sempre iniziare la partita e comunque speriamo di continuare sempre così, visto che ci porta bene. Questo è lo spirito giusto, ogni partita va affrontato così, quindi la nostra forza è che quando fischia l'arbitro cerchiamo di dare il massimo la prima mezz'ora, poi dopo comunque un gol può arrivare, può non arrivare, comunque l'importante è sempre iniziare bene la partita. E che per te che sei difensore, diciamo che fai piacere il fatto comunque di finire una partita contro una squadra molto blasonata con la vittoria senza subire reti. Sì, questo è sempre piacevole per un difensore, uscire in una partita senza subire gol, però devo ringraziare i primi attaccanti perché sono stati i primi difensori, quindi è tutta la squadra che difende bene, tutta la squadra che sta bene, quindi siamo un bel gruppo e dobbiamo continuare a fare così. Conta solo il risultato, sono arrivati nei punti, felici tutti. E Dembel, oggi c'era il pienone al piccirillo, c'erano gli spalti pieni, siete contenti comunque di coinvolgere l'intera piazza di Santa Maria Capovetra? Certo, comunque è sempre un piacere e una motivazione in più, quando li vediamo così alla fine che ci incitano sempre ad andare avanti non possiamo non molare, quindi loro fanno parte di noi, siamo una squadra, noi insieme al pubblico. E come prosegue questo tuo approccio all'interno di questa città? Bene, mi trovo veramente molto bene, poi conoscevo già qualche compagno e quindi è una città tranquilla dove si può far calcio, è una società sanissima e quindi ci sono tutti i presupposti per far bene, quindi sono veramente molto contento di essere qua. Grazie.